ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale per questo nuovo video di oggi oggi andremo a parlare della compressione parallela come vedete dietro di me ho già pronto un bel loop di batteria a che cosa serve la compressione parallela ragazzi allora e quando si utilizza fondamentalmente si utilizza soprattutto per elementi percussivi soprattutto nella batteria la compressione parallela è anche chiamata new york compression è un tipo di compressione che si applica facendo che cosa andiamo subito a vedere prendo il mio la mia batteria così com'è senza processing quindi senza compressione qualizzazione così com'è e la lascio così com'è mi clono il segnale principale quindi mi vado a creare un secondo segnale audio identico e parallelo al mio primo segnale audio di batteria una volta che mi sono andato a creare questo secondo segnale di batteria che farò andrò ad effettare solamente questo secondo questa seconda clip audio di batteria e andrò a mixare la batteria iniziale non processata quindi senza compressori e qualizzatori come vedete nel mixer non è presente alcun tipo di effetto con la seconda che invece verrà fortemente compressa e per quale motivo verrà fortemente compressa verrà compressa in un modo molto forte per poter tirare fuori i dettagli dal secondo segnale parallelo ovvero questo drums 2 che la compressione porta su come vi ho spiegato anche in altri video comprimendo un segnale andiamo a uniformare quelli che sono i livelli di volume però che cosa andiamo ad intaccare andiamo ad intaccare la dinamica per capire meglio questo discorso pensate a un pianista che suona prima in un tempo molto lento e poi si sposta in un tempo fortissimo quindi avrà delle variazioni il mio pianista sia nella velocity delle varie note quindi in tutta l'interpretazione del pezzo sul pianoforte se noi comprimessimo direttamente il segnale principale andremmosi a portare su le sfumature di batteria che diciamo sono meno in rilievo ovvero il contorno della nostra batteria ma andremo a sopprimere l'umanizzazione della batteria portando tutto allo stesso livello diventa una cosa molto robotica quindi uccidiamo l'espressione dell'artista fondamentalmente stessa cosa succederebbe sul pezzo di pianoforte di cui vi parlavo poco fa ovvero andando a comprimere tutti i volumi andando a over comprimere il nostro segnale di pianoforte andremmo ad uccidere quella che è stata l'espressività ovvero le variazioni d'utilizzo del pianoforte del pianista mentre suonava il piano stesso detto ciò ragazzi assegniamo come vi ho detto a due canali diversi del mixer la nostra traccia in questo caso con il tastino destro vado ad isolarmi solo quella che andrò a comprimere e faccio in modo che all'interno del mio mixer sia presente un maximus che cosa vado a fare il maximus prima di iniziare a lavorare me lo setterò andrò a spegnere vedete qui sono presenti tre bande una delle basse frequenze una delle medie una delle alte lo mid high spengo lo vado in high spengo high la media adesso è diventata una frequenza unica terrò accesa solo la mia mid che adesso non è più media frequenza perché prende tutta la banda tutta per sé e terrò acceso il mio master suon su questo settaggio base senza toccare il settaggio che sta a dimostrare un hard limiting a 0 decibel in modo che il mio segnale compresso una volta che è stato processato in mid verrà mandato nel master e verrà ovviamente limitato a 0 decibel onde vi dare il clipping fatto questo ragazzi che cosa vado a fare faccio partire il mio drum ovvero il mio loop di di batteria e inizio a lavorare che cosa è importante importante settare un attacco molto veloce quindi un attacco corto un release che varia fra i 100 e i 300 millisecondi andiamolo a fare mettiamo un 130 non avete sentito cambiamenti perché ancora non ho cambiato la mia curva di compressione adesso questo è il mio modo di lavorare vi spiego perché ho fatto così mi setto dei valori standard farò ripartire il mio audio e inizierò a settare la mia curva di compressione con dei valori di attacchi release già impostati in modo che io possa capire sin da subito se i settaggi che ho inserito siano corretti scendo a meno 8 e 7 ok porto questo giù a meno 4 e 7 aumento la mia curva i valori già mi piacciono sono molto buoni adesso vado ad aumentare il pre gain ovvero il gain pre compressione aumentato questo di molto mi regolo il sustain e la seconda curva di release che come vi ho spiegato nel tutorial sul Maximus per chi non lo avesse visto lo invito ad andarlo a cercare sul mio canale e trovate tutto il Maximus spiegato andrà a modificare la seconda parte della curva di rilascio ok la rendiamo abbastanza morbida adesso il low medium high mix lo tiriamo tutto giù lo mettiamo completamente chiuso ce lo andiamo a sollevare mano mano ad orecchio ragazzi perché non si lavora ad occhio a grafico e andiamo a sentire come mixare segnale compresso non compresso per andare ad avere l'audio che desideriamo sentite è ritornato normale l'audio ok aumenta ancora il pre ok la mia compressione parallela è stata fatta fatta la compressione parallela abbasso il volume a zero della mia seconda traccia che abbiamo appena compresso faccio partire la traccia non compresso ovvero il segnale originale e vado a regolarmi di fino di precisione il volume della mia traccia compressa parallelamente ok ragazzi questo è il lavoro fondamentalmente vado a regolarmi il volume faccio in modo di mixare correttamente la traccia fortemente compressa ovvero la seconda parallela con la prima che invece non è trattata quindi con la mia traccia principale di base che cosa vado a fare vado a fare una bella prova una volta con le due tracce clicco qui armo il master disc recording renderizzo ok renderizzo la mia traccia levo un attimo la seconda che è quella che abbiamo compresso ovvero quella presente nel secondo canale e faccio un paragone fra i due livelli questo è la il drum di base ovvero senza canale era come era il drum ma proprio all'inizio il drum di base non compresso non trattato quando finirà attiverò l'altro ovviamente appena rinicio come sentite la nostra batteria si è fortemente ma fortemente arricchita di dettagli ma tenendo in questo mixing che abbiamo fatto fra segnale compresso e non compresso la batteria naturale iniziale quella senza processing abbiamo aumentato quelle che sono le sfumature i dettagli della nostra batteria senza dover rinunciare però al tempo stesso alle dinamiche perché come vedete le dinamiche sono ancora ben presenti io vado a zoomare ok ragazzi vado ad aprirmi bene vado a chiudere qua come vedete c'è una differenza di volume ho mantenuto intatte le mie dinamiche ma sono andata ad arricchire di sfumature quella che è la mia la mia batteria detto questo ritorniamo alle normali size size 100 per cento e andiamo a sentire ancora una volta la differenza quindi come sentite ragazzi la nostra batteria suona più brillantemente più aperta più ricchia più ricchia bene molto bene ragazzi più ricca di dettagli e ovviamente più corposa e che cosa abbiamo fatto per ripetermi perché mi piace sempre ripetermi abbiamo unito due tracce fra loro la stessa identica traccia che è stata duplicata una che non viene processata affatto ragazzi perché viene lasciata così intatta e parallelamente avviene una forte compressione sulla traccia che io metto parallela che è la copia della prima non trattata vado ad unirle lasciando il volume intatto così com'è della mia prima batteria vado ad aumentare piano piano il volume ad orecchio per avere diciamo il giusto bilanciamento e quando vado a renderizzare nuovamente avrò la mia compressione parallela a portata di mano ovviamente ragazzi quello che vi consiglio è sempre di aumentare il pre gain utilizzate banda mid come vi ho mostrato nel procedimento precedente andate a regolare un attacco comunque molto corto intorno agli 8 10 12 millisecondi release lunga 100 300 millisecondi quindi vi tenete sempre in quei valori là diciamo l'attacco fino ai 30 millisecondi anche accettabile io mi sono andato anche a personalizzare la release 2 ovvero sono andato a personalizzarmi la seconda curva di release che è disponibile sul maximus che per chi ha fl studio 12 ragazzi è un plugin bundle quindi avete tutti ho utilizzato questo apposta aumento un po il sustain della mia curva come vi ho fatto vedere un metodo un po empirico un po casareccio però sempre funzionante perché vi aiuta ad avere dei riferimenti a chiudere il nostro lmh mix e decidere ovvero il mixing fra segnale non processato e segnale processato quindi un po come una manopola dry wet ok andiamo a dire al nostro maximus quanto segnale compresso lasciar passare e fatti questi settaggi ci resta solo ovviamente da andare a regolare il secondo volume per questo video tutorial ragazzi è tutto ricordatevi che questa tipologia di tecnica stavo dicendo quindi te tepologia dicevo alla grandissima come sempre ragazzi dislessia portami via questa tipologia di compressione questa tecnica di compressione è adatta su percussioni su elementi di batteria e ovvero tutto quello che riguarda il mondo delle percussioni in generali in generali bene la dislessia oggi va alla grandissima detto questo ragazzi come sempre io spero di essere stato il più chiaro possibile se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel pollicione su se questo video vi è piaciuto oltre che lasciare il pollicione su condividetelo con tutti i vostri amici che vogliono vivere in un mondo parallelo non solo con la compressione e vi invito inoltre ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati buono studio ragazzi buon divertimento su fl studio noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti